Quello che sto per dire è che spero non sia troppo banale e scontato, visto che si tratta di temi difficili nei quali non sono poi competente. Mi viene suggerito da un video che ho postato anche sulla mia bacheca di Youtube, ho condiviso, che si intitola Marta Argerich on Horowitz, nel quale si vede per qualche minuto uno degli ultimi concerti, penso, di Horowitz, credo che quel concerto aveva 83 anni. Alcuni brani di questo concerto, alcuni passaggi vengono commentati dall'Argerich, Cetrifonov e alcuni altri pianisti. Cosa osservare? In questo video si vede a un certo punto Marta Argerich commuoversi e poi in certi momenti, quando la telecamera inquadra la platea, si vedono degli ascoltatori con le lacrime agli occhi. Insomma, ci vede molta gente commossa, dalla musica che interpreta Horowitz. E la musica che interpreta Horowitz non è una musica particolarmente complessa e difficile, cioè interpreta, per esempio, un adagio di Mozart, una mazzurca di Chopin, vabbè, c'è anche uno studio di Scriabin, che fatto da lui sembra una cosa banale, semplice. E invece, quello che allora io capisco è che non sia necessario fare una musica virtuosistica in tempi incredibili, insomma, dimostrare quanto sei bravo. Horowitz riesce a commuovere facendo delle cose molto semplici, che suonano anche degli studenti di quint'anno di pianoforte. perché? Perché sa esprimere la bellezza, perché sa trovare la profondità del discorso musicale nelle note che suona, perché ti sorprende con la bellezza del suo suono e la sua capacità di scavare all'interno anche di un discorso musicale apparentemente semplice. Suona anche Troimerai dalle scene infantili di Schumann in questo video. Ecco, allora ci si chiede, no? Io ci trovo due cose che ci colpiscono nel mondo di oggi, anche a guardare quello che si vede su YouTube, no? Si vede un mondo di interpreti, soprattutto di giovani interpreti, che sono bravissimi, nel senso che hanno un virtuosismo incredibile, no? Che ti stupiscono per la loro agilità, per il loro virtuosismo. E tu li ascolti, perché ne ho ascoltati un po' in questi ultimi periodi, diciamo vincitori o piazzati in concorsi internazionali, insomma, no? Veramente bravi, costruiti, molto giovani, molto piccoli, prima di dieci anni fanno già concerti con l'orchestra e il giro, insomma, no? Però all'interno di questi interpreti diventa difficile, come dire, distinguere, diventa difficile farsi un'idea delle peculiarità e sentire bellezza. Si sentono tante note, si sentono tanti suoni, si rimane stupiti per la bravura, cioè per il loro virtuosismo, ma non ci si commuove, non ci si commuove. È difficile che scendano delle lacrime a sentire suonare dei brani difficilissimi, virtuogistici, come riescono a fare questi giovani interpreti. E allora, e poi, non so, poi guardando sempre il video di YouTube ogni tanto, no? Si vede quanto spazio viene dato ai giovani, ai giovanissimi, no? Ai bambini, a tre anni, quattro anni, che suonano il pianoforte, no? Ci stupiscono, ma non è che ci commuovono con la loro musica. Perfino i vecchi, no? Centenario che suona la stazione di... eccetera eccetera. Allora, anch'io mi accorgo di avere una qualche speranza. Spero che quando avrò cent'anni mi metterò sulla stazione, magari di Venezia, a suonare e qualcuno mi ascolterà. Non perché sarà bella la musica che suono, perché suonerò particolarmente bene, ma perché lavrò cent'anni e quindi qualsiasi cosa faccia stupirà. Ecco, allora, due cose, no? La tendenza a stupire, a meravigliare, a fare qualcosa di eccezionale che gli altri non sanno fare. La tendenza al virtusismo, all'eccezionalità, al fatto che quella cosa è interessante perché la sai fare solo tu o solo pochi. Gli altri non la sanno fare. Tu hai superato quelle difficoltà e allora la sai fare, sei arrivato, sei più bravo degli altri. Ecco, da questo nasce uno spirito di competizione, no? Chi è più bravo? Chi fa più note? Chi le fa più veloci? Chi suona più in fretta? Chi riesce a dire più cose nel minor tempo possibile? E l'opposto. Di questo ci sta invece la bellezza. Ci sta invece la bellezza che commuove. Ci sta il brano semplice suonato da Horowitz, ma non solo Horowitz. Tanti pianisti, no? Riescono a commuovere, cito uno per tutti, Emil Gils, del secolo scorso. Insomma, pianisti che non staccano tempi eccezionali, anzi, a volte li staccano anche troppo lenti, ma che hanno una tale profondità che riescono a commuoverti. Ecco, allora, la bellezza, la commozione, la capacità di entrare nell'animo, quindi di far parte del tuo io più profondo, insomma, no? E il virtuosismo, e lo stupore, la cosa che guardi con meraviglia, la meraviglia rispetto alla bellezza. E la bellezza, diciamo così, è il contrario della meraviglia, cioè la bellezza è qualcosa che si avvicina alla verità. E questo lo vediamo, lo vediamo soprattutto anche in letteratura, no? Quali sono i passi, i momenti della letteratura che più ti prendono, no? Che più ti commuovono, che più ti fanno venire le lacrime agli occhi, anche, no? Non si che ti si rompa la voce, che non riesci ad andare avanti, no? A volte sono delle cose che sembrano banali, no? Uno le legge così con indifferenza e le trova banali, no? Sono quei momenti in cui la parola tocca dei momenti di verità, dei momenti profondi, dei momenti che sono veri dentro di noi, perché toccano le corde più profonde, insomma, no? E lo scrittore li riesce a cogliere, noi sentiamo che li ha colti, che c'è corrispondenza tra il sentire, che leggiamo nelle parole, e tra il nostro mondo interiore, insomma, no? Tra i nostri affetti. E quindi bellezza uguale a verità, virtuosismo, bravura, che è uguale semplicemente a stupore, a meraviglia, a qualcosa che in quel momento ti affascina, ma che poi non ti lascia, se non il fatto di dire, ah, che bravo, no? Però non ti fa dire, ah, che bello, che bello con quella sensazione che non hai bisogno di dire, che lo senti dentro. E così anche per il mondo, per il resto del mondo dell'arte, così anche di fronte a un'opera d'arte, a un quadro, a una scultura, a un monumento, no? La bravura formale, quella di un certo barocco, tutta una serie di cose, rispetto alla bellezza di ritrovare la forma, quella forma che è grande semplicemente come equilibrio, come proporzioni, come corrispondenza tra le tue proporzioni interiori e quelle che tu vedi all'esterno. E poi c'è un'altra cosa da dire, insomma, no? Che la bellezza ti arricchisce, ti lascia qualcosa, completa il tuo mondo, è un qualcosa che ritorna come tuo patrimonio. e quindi chi crea bellezza lascia qualcosa di sé negli altri e questo qualcosa che lascia è un qualcosa che arricchisce tutti e in questo senso è capace di condividere. Cioè chi crea bellezza dona, bellezza agli altri, come dire, amplifica il loro mondo e lascia un dono agli altri, un dono di condivisione, parola che si sente abutare in questi momenti. Chi invece stupisce in realtà non condivide, in realtà compete, compete con gli altri, compete per essere più bravo, per destare più meraviglia, per creare più stupore, per fare in modo che si dica che lui, ma non lascia eredità di affetti, come avrebbe detto qualcuno, no? È un arrivare primi, è un essere più bravi, è il vincere il premio, la coppa del più bravo, il primo premio. Ed è un po' la caratteristica del mondo in cui viviamo adesso che ci porta ad essere invece sempre più competitivi, sempre più alla ricerca di arrivare prima degli altri, di essere sempre più bravi, più dotati, insomma, e di far valere questo talento che alle volte è anche una dote naturale, insomma. Ma spesso a questo talento non corrisponde una capacità di approfondimento, di creare bellezza e di cercare la bellezza non tanto solo nelle cose complicate, difficili, astruse, ma anche nelle cose più semplici, quelle che poi sono anche più facili da condividere perché sono più accessibili a tutti gli altri che magari non sono abituati. Ecco, perché un'altra cosa comprendere la bellezza ci vuole educazione, ci vuole un'educazione, insomma, è più facile, è più facile il sentimento di stupore e di meraviglia di fronte a qualcosa che non l'imperiorizzazione del bello, il sentire profondamente che richiede invece c'è un'educazione anche all'emotività. E sinceramente, ritornando a quel video che ho citato all'inizio, vedere una grande interprete come Marta Argeris, una delle più grandi pianiste del mondo, commentare Horowitz e commuoversi lei stessa nel commentarlo, lei che crea anche bellezza, ecco, anche questo per me è qualcosa che che commuove, che ti porta a riflettere, insomma, riflettere soprattutto sul mondo verso il quale stiamo andando. fatto sempre meno di bellezza e sempre più di stereotipi, di kits, di una rincorsa, un virtuosismo frenato, a cercare chi è più bravo tecnicamente, chi è più bravo chi sa stupire di più, non chi sa offrire agli altri e condividere bellezza, con gli altri. Un saluto.